E' Michele Gazzara ad aggiudicarsi la 92esima edizione della Coppa San Geo. Il portacolori della Norda MGKV Svega attacca 12 km dal termine, impossibile per chiunque replicare la sua azione vehemente. Sì, il Nardo ha fatto un bel lavoro perché comunque ha tenuto la corsa tirata e poi ho seguito Masnada che mi ha portato avanti e cosa fare? Ho provato, ho dato tutto per tutto fino all'arrivo e mi è andata bene così. Una dedica? Una dedica a tutti gli sponsor, a Norda MGKV, a Boifava che ci fornisce sempre il materiale, il top, le bici carriera e a tutta la squadra. Il Nardo ha fatto un bel lavoro perché ci fornisce sempre il materiale, il top, le bici carriera e a tutta la squadra.